Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra ennesima tragica puntata del nostro corso di videocucina. Oggi impareremo a fare un sorbetto a limone molto semplice e veloce da preparare, così se per caso vogliamo qualcosa di dolce e gustoso allo stesso tempo, però non abbiamo molto tempo per prepararlo, possiamo prepararlo velocemente. Richiede anche pochi ingredienti. Innanzitutto comunque faccio un saluto sempre alla mia moglie che mi sta riprendendo durante questo ennesimo tragico video. Ciao a tutti! Allora, che cosa abbiamo bisogno? Allora, di un limone, di una confezione di panna montata da 500 ml, perché ce ne occorrono 400 ml, quindi voi prendete due confezioni da 200 ml, oppure ne prendete una da 500 ml, perché quelle da 200 ml non le ho trovate, perché ce ne occorrono 400 ml. E poi 100 g di zucchero a vela, in sostituzione potete usare lo zucchero normale. Tenete presente che questo sorbetto che prepariamo è per due persone, quindi eventualmente volete fare un sorbetto per più persone, dovete naturalmente mettere di più la quantità degli ingredienti che vi ho accennato. Ricapitolando, per un sorbetto per due persone serve un limone, 100 g di zucchero a vela, a velo, 400 ml di panna montata, e naturalmente l'attrezzo che serve per montare la panna. A dopo!